no 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 fratello cristiano passami il pasto fatti passo lo genuardo ma come va se ne vado non so ma non mi tocca ma non mi tocca la situazione è questa fratelli chiove eccolo vai stone vai stone vai mamma c di lato di lato di lato canzoni super tristi cristiano vai vedo come mangia l'etica ti devo mettere lato aspetta no cristiano così ti fai male vai girati girati del tutto vieni si vai cristiano torna un attimo indietro torna un attimo indietro ti sei bloccato come una tartaruga girati da qua cristiano sta presa da qua con la trembanza e la capa nelle spalle esatto forza ti girai sano però non so non so cristiano vai 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 assolvi dai peccati peccatore ahahah 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 voglio qualcosa è successo che sta andando a mano ramo la mano che ti dico vennaggio torna il reto vai troppo poco c'è ancora che è questo mi ha detto girare la patta per sabre non so vieni come è che girare così vieni eccolo ce la sta facendo ce la sta facendo vieni eccolo ce la sta facendo vieni eccolo vieni eccolo vieni eccolo vai assolviti dai peccati assolviti dai peccati assolviti dai peccati ok appena finito il gioco